Si amplia l'offerta del mercato dell'auto a Pesaro. Giovedì 28 novembre inaugura infatti il nuovo Cupra Garage, un investimento del gruppo Domina che allarga la sua rete di concessionarie nelle marche arrivando all'estremità settentrionale della regione e riqualificando a Pesaro anche un'area di smessa di strada del Montefeltro. Aspettando il taglio del nastro ufficiale Cupra Garage è già aperto al pubblico. Il nostro gruppo che da oltre 40 anni è concessionario di tutti i brand del gruppo Volkswagen, oggi con Cupra Garage che è il nuovo brand del gruppo ha deciso di investire su Pesaro con questa nuova struttura per il territorio. Noi abbiamo 10 sedi nella regione Marche e Pesaro era la parte alta della regione che volevamo coprire per potenziare l'offerta a tutti i nostri clienti. Sia un centro usato certificato con tutte le vetture del gruppo e anche oltre, il servizio di noleggio a breve e a lungo termine e i brand nuovo Cupra e Seat in primis che rappresentano il nostro Cupra Garage diciamo la massima espressione del design e dell'innovazione. Pesaro è una zona strategica, capitale della cultura quindi ci fa un onore particolare essere qui oggi e vogliamo invitare tutti i pesaresi all'inaugurazione della nuova struttura che è già aperta quindi vi invitiamo a visitarla e il 28 di novembre giovedì sera vi aspettiamo tutti per il primo evento di inaugurazione del Cupra Garage Domina di Pesaro.